La protesta sul prezzo dell'Ateo Vicaprino in musica. Signor Pastore è il titolo del brano in rotazione radiofonica di Giovanni Selis, cantautore e polistrumentista di Tempio, che vanta collaborazioni e premi nazionali. Il brano è un omaggio alle migliaia di signor Pastore che sopravvivono con determinazione e sacrificio per mantenere la famiglia, garantire un futuro ai figli e che non riescono ad arrivare a fine mese a causa di questa ingiusta svalutazione del proprio lavoro. La protesta lecita e inascoltata dai politici assume qui una veste musicale inedita attraverso l'uso del reggaeton che richiama la classica hit estiva. In questo modo Selis cattura l'attenzione dell'ascoltatore e aumenta l'eco della protesta, teatro del videoclip che accompagna il brano alcune aziende agricole sarde. Il brano è una perfetta sintesi del percorso artistico e dell'esperienza personale intrapresa da Selis in questi anni, dentro e fuori dall'isola, in cui è nato nel 1989, una ricerca che gli ha permesso di dare vita a un testo di grande originalità e profondità sociale sostenuto da una perfetta commissione di stili musicali moderni in cui affronta un tema spinoso che ha indignato i pastori sardi e l'intera Sardegna.